Tra poco vi riporto alcune voci su Romero Lukaku che sono spuntate in queste ore, ve le riporto perché secondo alcuni giornalisti, alcuni opinionisti, dietro il periodo di appannamento, comunque questo periodo in cui non è brillantissimo Romero Lukaku, ci potrebbero essere appunto queste voci che vi dico tra qualche secondo. Dall'altra parte invece altri opinionisti tra cui io, ve lo dico subito, mi schiero in questa seconda parte, pensano che questo periodo non brillantissimo di Lukaku sia dovuto soprattutto ad una forma fisica non ottimale per tanti motivi che adesso andiamo ad analizzare. Io sinceramente ve lo dico subito e poi lo approfondiamo, penso che ci sia della più che comprensibile stanchezza mentale e fisica. dietro l'appannamento di Lukaku. Sono andato quindi, prima di registrare questo video, a riaprire gli archivi polverosi, diciamo così, delle statistiche, le heatmap, percentuali varie per cercare di analizzare il più possibile insieme a voi l'andamento di Lukaku per cercare di capire anche che cosa sta succedendo appunto in questo momento e ho trovato delle cose molto interessanti, secondo me, che voglio analizzare insieme a voi. Prima però devo ringraziare il nostro Simone Camboni, nostro sostenitore che grazie al suo abbonamento ha permesso la creazione di questa clip. Il sostegno di Simone per noi è fondamentale e contribuisce sempre di più alla crescita del nostro progetto. Chi vuole sostenerci può farlo andando su patreon.com slash passioni inter oppure, come Simone, in pochi click vi potete abbonare cliccando sul nostro canale YouTube, sul tasto abbonati o nel link in descrizione. Innanzitutto, andiamo ancora in ordine. Perché si sta parlando tanto di Lukaku? Allora, personalmente, ripeto, faccio fatica sinceramente a criticarlo se non nelle singole prestazioni, perché un conto è a criticare la singola prestazione, un conto dire è un bollito, è un brocco, è un sopravvalutato, non sta giocando, eccetera. Un po' perché comunque ha tirato sempre la carretta in quest'Inter, un po' perché comunque va anche detto, secondo me, che pur non brillando, magari pur avendo un periodo di appannamento in zona goal, con la sua semplice presenza in campo, secondo me, è un giocatore che fa nettamente la differenza e lo vedremo tra poco anche evidenziandovi come rispetto all'anno scorso sia cambiato molto Lukaku. Però vedo che la critica su di lui è sempre pronta, a maggior ragione dopo la gara contro la Juventus siamo tornati a parlarne, si è tornata ad accendere la discussione. Contro la Juventus è rimasto a secco, ha fatto soprattutto all'inizio tanto lavoro di sponda, ma non ha brillato particolarmente. De Ligt, lo abbiamo capito, è un avversario che Lukaku soffre molto e soprattutto abbiamo visto che Lukaku non ha mai segnato contro la Juve e in molti criticano anche il non aver segnato contro altri grandi squadre, in particolare contro la Lazio, contro l'Atalanta, la Roma ha segnato soltanto un gol, penso siano questi dati, se non vado errato, contro le principali squadre del campionato italiano. Gli viene soprattutto criticato quindi il fatto di non segnare soprattutto nei momenti decisivi. Questa è la critica più importante che gli viene mossa, dimenticando però che comunque al Napoli per esempio ne ha fatti tre, da quando è a Milano, al Milan ne ha segnati quattro, poi magari mi direte che il Milan non è una big, passatemi la battuta, dai sto scherzando ovviamente, e poi anche l'anno scorso in Europa League aveva stabilito tanti record, ci ricordiamo di marcature consecutive a livello europeo, eccetera, e nel mese di gennaio comunque aveva anche segnato il gol decisivo contro la Fiorentina in Coppa d'Alea, per citarne uno proprio all'ultimissimo minuto. Detto questo, 54 gol in 79 partite con l'Inter, questi sono i numeri di Lukaku, più tanti assist, ha superato Samuel Eto'o, è già nella top 30 dei migliori marcatori della storia dell'Inter, 28 anni ancora da compiere, non è da tutti secondo me avere questi numeri, considerando poi come dicevo che fa tanto altro oltre ai gol. Comunque è evidente, detto questo, e non si può dire sicuramente il contrario, che in questo momento non è il miglior Lukaku che abbiamo visto, e non è il miglior Lukaku dal punto di vista della brillantezza. Nel 2021 in particolare ha segnato cinque gol in dieci partite, è rimasto a secco in sei partite di questo 2021, quindi è sceso abbastanza nella media gol, perché era di circa 0,8-0,9 gol a partita, è scesa invece a 0,5, quindi un gol ogni due partite di fatto in questo 2021, numeri che sono al di sotto del suo standard che abbiamo visto nel primo anno e mezzo di Inter. Cosa c'è dietro questo calo? Arriviamo un po' al dunque, quindi nelle scorse ore, vi dicevo, sono circolate delle voci, soprattutto in Inghilterra, stanno parlando ormai già da qualche giorno, con insistenza del fatto che il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe lo stesso Guardiola che starebbe pensando proprio a Lukaku per il suo attacco la prossima estate, visto che deve sostituire un Aguero che ormai non è più giovanissimo e potrebbe partire, visto che deve mettere maggior peso in attacco, e visto anche la situazione economica dell'Inter, Guardiola starebbe pensando molto, molto attentamente a Lukaku. Queste sono le voci che arrivano dall'Inghilterra. In Italia, in queste ore, stavamo ascoltando il giornalista Lapo De Carlo, che penso conoscerete, che ha riportato delle conferme su queste voci che vorrebbero il City interessato all'attaccante belga dell'Inter, dell'Inter, raggiungendo un dettaglio, ovvero che l'agente di Lukaku non sarebbe rimasto del tutto indifferente all'interesse del City. Diciamo così. Questa è la notizia che viene riportata quindi sempre da Lapo De Carlo, ma non solo lui, che ha detto, l'ho sentito in radio, diceva che più che stanco potrebbe magari essere distratto anche alla lunga da queste voci e quindi dice che sta facendo il suo in questo momento, ma senza strafare. Può essere tutto questo. Personalmente non ho conferme su queste voci sul City, quindi cercheremo di approfondirle sicuramente con la nostra relazione nelle prossime ore. Mi viene anche da dire che l'ultima volta comunque che abbiamo venduto un centroavanti a Guardiola poi non è andata così male, quindi vedremo, ma comunque Lukaku me lo terrei molto più che volentieri, detto proprio banalmente. Vorrei sottolinearvi però un paio di considerazioni interessanti. Per me non è distratto, non è poco concentrato. Per me possiamo ricondurre questo periodo di appannamento proprio ad una stanchezza fisica. Perché? Prima cosa, l'anno scorso Lukaku aveva chiuso la stagione da record, aveva eguagliato Ronaldo segnando 34 gol in 51 partite. Vale a dire una media di circa 1,5 gol a partita. Quest'anno è già a quota 20... No, non 1,5 gol a partita, vabbè. Un gol ogni 1,5 partite ovviamente. Quest'anno, dicevo, è già a quota 20 gol invece e in proiezione, continuando con il ritmo che ha avuto da inizio stagione ad ora, complessivo, chiuderebbe questa stagione con 32 gol. Perché mancano ancora 17 partite e la proiezione ci porta a prevedere una chiusura a 32 gol se dovesse mantenere il ritmo che ha avuto in tutta la stagione. Quindi vuol dire che nella prima parte ha avuto dei ritmi veramente mostruosi, ora sta riprendendo un po' fiato, però siamo in linea con il record di gol della scorsa stagione. E sta riprendendo fiato, per me è la parola giusta perché è superfluo ricordarlo, però lo ribadisco per chi se lo stesse dimenticando. Lukaku, ragazzi, non si è affermato mai. Non si è affermata mai l'Inter, ma anche e soprattutto Lukaku. Vi do alcune date. La stagione dell'Inter è finita il 21 agosto con la finale di Coppa di Europa League. Il 5 settembre Lukaku era già in campo di nuovo con il Belgio, il 26 settembre era in campo con l'Inter in campionato. Quindi vuol dire zero vacanze e di fatto zero preparazione. Fino ad ora, tra l'altro, ha giocato 28 partite con l'Inter più 5 con la nazionale. Quindi da inizio settembre ad oggi ha giocato 33 partite totali. Un anno fa, quando ancora non c'era la pandemia e la stagione era ancora normale, ne aveva giocate 34 dall'inizio della stagione al 12 febbraio, momento in cui stiamo registrando questo video. Ne aveva giocate 34, quindi una sola partita in più. Di fatto, diciamo, lo stesso numero di partite, ma l'anno scorso in un arco di tempo molto più largo, molto più disteso e quindi con un calendario meno compresso e soprattutto dopo aver fatto una preparazione adeguata. Senza dimenticare, tra l'altro, che in questa stagione tra ottobre e novembre ha avuto anche un piccolo infortuno agli adduttori dal quale ha dovuto recuperare anche abbastanza in fretta, perché di fatto alternative in attacco ce ne sono poche. Soprattutto però volevo sottolinearvi, come vi dicevo all'inizio, quanto quest'anno sia cambiato il ruolo di Lukaku ed è cambiato davvero tanto. Guardate, innanzitutto vi faccio vedere le heat map, le zone di azione. Qui siamo nella stagione 19-20 e vedete come le zone di azione si concentrano soprattutto qui all'interno dell'area di rigore, molto ovviamente anche a centrocampo, dove veniva a gestire tanti palloni quando la squadra doveva ripartire dalla difesa. Comunque vedete che la zona di azione principale di Lukaku si concentrava un po' spostata verso la corsia destra, ma soprattutto all'interno dell'area di rigore, comunque molto vicino alla zona calda, alla zona gol. Questa è la heat map della stagione, quindi 2019-2020. Com'è cambiato nel 2021? Ve lo faccio vedere subito, è cambiato molto, perché la heat map si è molto colorata di rosso, più è rosso più ha giocato palloni in quella zona lì, diciamo. e la heat map rossa di Lukaku quindi si è spostata soprattutto sul centro-destra, più fuori dall'area, come vedete l'area è meno rossa rispetto a prima e si sposta soprattutto sulla corsia, quindi anche la zona di azione di Lukaku nella stagione 2020-2021 è molto cambiata. Perché? Perché il gioco di Lukaku è cambiato in questo modo? Secondo me e secondo quello che abbiamo potuto vedere fino ad ora, anche alla luce di qualche dato che abbiamo raccolto, è cambiato in funzione soprattutto dell'arrivo di Hakimi. Hakimi sbilancia il gioco da questa parte, da questa parte della corsia destra, e per questo motivo con la punta che gioca in coppia con Lukaku, quasi sempre Lautaro che va a coprire la zona di campo più a sinistra, Lukaku cambia perché l'Inter cambia per favorire anche Hakimi. Quindi la risposta di Hakimi è stata super quest'anno, sei gol e sei assist sono numeri da attaccante e mi sento di dire quindi parte dei meriti di questi numeri di Hakimi sono anche del lavoro che fa proprio Lukaku su Hakimi, ovviamente. Secondo me è giusto dare dei meriti anche a Lukaku nell'ottimo rendimento che sta avendo Hakimi. Ci potrei aggiungere forse anche Barella, magari questo lo approfondiremo poi a parte di come sia cambiata la corsia di destra dell'Inter. Comunque è soprattutto Hakimi che approfitta del fatto che Lukaku viene fuori dall'area, libera spazio, porta via un difensore e poi gestisce un buon numero di palloni, fa la sponda e libera l'inserimento in area. Ulteriore conferma di questo, di questo cambiamento, la troviamo anche in altri dati che sono andato a raccogliermi, quindi per registrare questo video. Rispetto alla scorsa stagione, mi sono appuntati, altrimenti ricordarsi del amore sarebbe impossibile, Lukaku ha praticamente dimezzato i duelli aerei, cioè è passato da 2,1 duelli aerei a partita a circa 1,2. Che cosa significa questo? Che viene molto più cercato sui piedi e addosso, piuttosto che di testa, che col pallone alto. Quindi gestisce più palloni a terra ed è anche migliorato con i piedi a livello proprio di passaggi riusciti, perché la precisione dei passaggi l'anno scorso tra tutte le competizioni era circa del 69%, quest'anno siamo a 74-75% di passaggi riusciti, quindi da questo punto di vista è migliorato. È interessante anche un altro dato che vi aggiungo, perché Lukaku ha di fatto triplicato i dribbling effettuati a partita, un anno fa ne faceva 0,7, quest'anno siamo saliti quasi a due dribbling a partita di media. è un dato questo che viene dato anche dalle diverse occasioni in cui l'Inter comunque gioca attirando l'avversario facendo alzare il baricentro e poi Lukaku allo spazio si è servito subito e si è servito bene per andare in dribbling e partire in campo aperto. È una cosa che rispetto all'anno scorso stiamo vedendo molto di più quest'anno. Però ecco è anche un ulteriore dato, secondo me, che certifica questo cambiamento dello stile di gioco in funzione, lo ripeto, del cambiamento che ha avuto l'Inter. In definitiva, dopo avervi dato tutti questi numeri che spero non vi abbiano confuso, spero di essere stato chiaro nella mia spiegazione, io di base sono per cercare di non creare casi, quindi dopo una partita parlare dei singoli, delle polemiche, eccetera, non mi fa impazzire, soprattutto sui giocatori importanti come Lukaku che per me, ecco, ripeto, criticare Lukaku ci sarebbero altri che andrebbero criticati secondo me prima di lui e soprattutto dai dati che vi ho riportato, secondo me mi sembra abbastanza comprensibile intravedere della stanchezza nell'attaccante belga. Stanchezza che, ripeto, non è solo fisica, ma anche mentale, perché stare sempre sul pezzo, giocare ogni tre giorni, vale per tutti, ma vale ovviamente anche per Lukaku, quindi dobbiamo considerarlo, ti porta, secondo me, via energie mentali molto importanti. Poi lui ha una struttura fisica molto importante. Già dall'anno scorso aveva sempre eseguito un programma di recupero molto specifico con macchinari particolari, abbiamo scritto un articolo sul tema sul nostro sito passioneinter.com. Fin qui aveva dovuto un po' accantonare il suo tipo di recupero classico perché c'erano impegni troppo ravvicinati e doveva velocizzare un po' il tutto. Ora ci sarà modo di giocare una volta a settimana, potrà gestire meglio i carichi di lavoro e il riposo, quindi considerando che per me, tra l'altro, un accenno di preparazione di fatto l'ha fatta durante il periodo natalizio che è stata l'unica sosta, tra virgolette, lunga che c'è stata finora in questa stagione, quindi, in definitiva, messa da parte questa stanchezza, recuperata al meglio la condizione fisica, sarà tra i principali interisti a crescere di condizione per il finale di stagione, almeno secondo me. Poi, se sarò smentito, ne riparleremo. Vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube, a seguirci anche sulle piattaforme di podcasting come Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Ringrazio nuovamente il nostro Simone Camboni che è il nostro sostenitore che ha contribuito grazie al suo abbonamento alla realizzazione di questa clip. Chi vuole sostenerci può farlo andando su patreon.com slash posizione inter oppure cliccando sul tasto abbonati su YouTube trovate anche il link in descrizione se non vedete il tastino abbonati.